È un impegno che avevamo preso lo scorso anno quando abbiamo ottenuto dal Governo Centrale il miliardo e 230 milioni, ma dovevamo sicuramente far la nostra parte nel recuperare tanta evasione, tante tributi e imposte che non riscuotiamo. Sono 2 miliardi e 200 milioni di euro quelli che non abbiamo riscosso negli ultimi 10-15 anni, 800 milioni di multe non pagate, 770 milioni di tari e così via. Ecco perché c'è bisogno di organizzarsi. Lo facciamo affidando con gara ad una società specializzata. La lotta all'evasione dei tributi comunali è un passaggio fondamentale per rendere efficiente la gestione delle entrate tributari ed extratributari del Comune di Napoli. Come previsto dal patto per Napoli, è stato pubblicato il bando di gara per il servizio di riscossione coattiva insieme con l'accertamento e il contrasto all'evasione per i muettari. L'unico onere a carico del Comune sarà l'agio sulle somme effettivamente riscosse e le offerte potranno pervenire entro il 29 novembre tramite la piattaforma telematica del Comune di Napoli. Chi vincerà la gara sa che dovrà star molto attenta alle condizioni sociali della città. Dobbiamo non essere vessatori ma al tempo stesso i cittadini che pagano hanno il diritto di vedere che sulla riscossione si fa un serio passo in avanti.